accendete l'interruttore generale, casse amplificate e in teoria si dovrebbe accendere anche il tablet. Se non si accende ed è spento controllate che il cavo si è attaccato e tenete premuto il tasto piccolo finché non si accende. Una volta acceso potete digitare su google o su youtube tutto quello che volete e questo qua AUXX jack sarà il vostro volume quindi lo regolate in base alle vostre necessità, lo alzate, lo abbassate o lo lasciate così. In caso di necessità potete staccare il cavo jack al tablet e collegarlo al vostro dispositivo. Perfetto il volume sarà comunque sempre questo.